Loro dietro sono un muro incredibile che bisogna scardinare, Milinkovic ci prova! Go! 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 Sergei! Milinkovic! L'ha fatto questo muro come detto! Con un bolide di destro! La palla si inzacca in rete! E parliamo con Milinkovic! 1-1! L'abbiamo abbattuto! Questo muro granata ci ha pezzato a lui! Il sergente! 1-1! Il gol di Milinkovic! La pareggiamo con Milinkovic al sedicesimo minuto di gioco!